fare backup è fondamentale lo sappiamo tutti è una di quelle abitudini digitali che abbiamo preso per naturali negli ultimi anni come guardare ad esempio il cellulare per vedere l'ora per youtube per guardare un video o cercare una cosa prima su amazon e poi sulle altre piattaforme prima addirittura di andare in un negozio se vivi nel presente il backup è una delle cose più normali che esistano iniziava ad esserlo negli anni 80 con i primi un computer quando il comando save era una delle parole chiave dell'informatica moderna insomma uno degli aspetti cruciali della nostra vita digitale è proprio il backup ossia la conservazione l'archiviazione dei nostri dati digitali possibilmente in doppia copia nel campo pro si parla anche di tripla e quadrupla copia ma lo vedremo tra un po fatto già un video tempo fa su questo canale riguardante i tipi di hard disk da utilizzare negli studi di registrazione quale scegliere quanto e quando cambiarli e dove appunto tenerli ed è il momento di integrarlo e farne appunto uno nuovo analizzando i metodi moderni di archiviazione disponibili in questo momento sul mercato che voi siate musicisti cuochi ingegneri giardinieri ineluttabilmente avrete a che fare con una vita digitale con una quantità ad esempio di foto da da non trovare più neanche il tempo di guardarle se ci fate caso ma al pensiero di perderle impazzireste ad esempio le foto dei vostri figli i momenti delle vacanze i piatti al ristorante non parliamo di chi come me fa video audio e lavori di archiviazione per conto terzi qual è oggi il miglior sistema di backup sul mercato se non lo avete ancora fatto per favore iscrivetevi al canale a voi non costa nulla a me aiuta nella divulgazione di questi video gratuiti e ricordate di attivare anche la campanella in basso così da rimanere sempre aggiornati appena ne esce uno nuovo abbiamo parlato di archiviazione casalinga di foto e video ma per capire meglio come archiviare il nostro lavoro in studio soprattutto ma anche per aziende magari che siano studi legali studi commercialisti o un archivio di stato qual è il sistema più sicuro di archiviazione magari anche a prova di IMP il famoso impulso elettromagnetico derivato da un'esplosione nucleare una parte del mio lavoro in studio è relegato come sapete ormai al restauro e alla conservazione di materiale audio di archivio quindi recupero restauro conservo e catalogo materiale audio da cassette bobine a nastro dat cd vinili eccetera eccetera alcuni di questi lavori servono anche per esempio ai dj per fare nuovi remix di master che erano che erano magari trattenuti su questi formati o alla creazione di nuove colonne sonore da materiale vecchio e degradato oppure altri impieghi molti di questi formati hanno inoltre diverse forme e formate appunto ad esempio di cassette audio ne esistono decine di tipologie con ognuna uno specifico lettore lo stesso per le bobine a nastro e i dati digitali pratico ormai questo lavoro per i privati ma molto spesso è capitato anche per società e istituzioni governative come fonico forense trovate già alcuni video sul restauro audio su questo canale per i più curiosi e negli ultimi anni come dicevo mi sono specializzato anche nel restauro di software registrato sotto forma di audio cassette e anche su vinile come nel caso dei programmi appunto ai giochi dello zx spectrum o del commodore 64 che appunto erano registrati su cassette audio colgo l'occasione per ricordarvi anche che è disponibile il mio nuovo libro commodore 64 versus zx spectrum su amazon e in libreria edizioni minerva nel libro trovate non soltanto la storia dei primi due veri on computer del mondo ma interessanti argomenti tecnici anche sul funzionamento di quelle tecnologie le interviste esclusive dei programmatori dei videogames storici le interviste agli altri miei colleghi di zap mac world commodore gazette eccetera eccetera insomma una panoramica raccontata in un lavoro corale che sono sicuro sarà un compagno degno delle vostre giornate al mare e un ottimo regalo per i vostri amici nerd nel libro come dicevo parliamo anche della tecnologia dietro alla registrazione dei dati sul nastro magnetico e appunto il suo restauro in ogni caso una volta campionato e restaurato devo catalogare il tutto da qualche parte devo archiviarlo le nostre song ad esempio registrate con studio one i disegni fatti con photoshop i video editati con da vinci e final cut i libri e i manuali in pdf e ovviamente anche questi tutorial dove conservare tutta questa montagna di cose per un uso futuro in modo sicuro e facile da recuperare già sento qualcuno che dirà un art disk esterno un nas un bel server online eccetera eccetera sicuro che basti questo se siete arrivati fino qui e non avete già chiuso il video grazie veramente ultimamente ho deciso di fare dei video un po più lunghi rispetto a quelli brevi e ho visto dalle statistiche che mi ascoltate magari mentre fate altro io stesso ascolto video di altri youtuber mentre corro la sera oppure mentre cucino se volevate un video corto mi dispiace tutta questa intelligenza artificiale che ci fa risparmiare tempo che ci ottimizza la vita ancora sinceramente non la vedo ma ne parlerò in un altro video più polemico intanto grazie come dicevo e proseguiamo perché l'argomento solleva diverse problematiche che pochi hanno mai affrontato è importante fare una premessa sui supporti per quanto possa sembrare strano uno dei problemi maggiori che devo affrontare quando mi chiedono di recuperare registrazioni o archivi è capire come sono stati registrati nel 99 per cento dei casi ci si preoccupa sempre di preservare il formato quindi il supporto di registrazione ma non lo strumento con cui è stato creato rendendo a volte impossibile poterli recuperare pensiamo ad esempio a una semplice cassetta cosa accadrebbe se non ci fossero più i lettori di cassette disponibili nel caso poi delle registrazioni forensi può capitare che ad esempio le semplici cassette audio siano state registrate a velocità o con testine particolari che li rendono impossibili da recuperare con un registratore a cassette standard lo stesso accade per i dat registrate magari a 32 kilohertz per allungare appunto il tempo della cassetta anziché i classici 44 48 kilohertz la maggior parte delle macchine dat ancora funzionanti sono ormai pochissime vi assicuro e la manutenzione di quelle che ancora funzionano è molto costosa non è strano sentire amici e clienti che ho riacceso il mio dat non funzionava in più ho provato anche ad avviare un dat e si è rovinato il nastro e sì purtroppo i nastri dei dat una volta rovinati non sono più leggibili come quelli analogici penserete allora che la cosa più semplice sia catalogare tutto su degli hard disk meccanici ottima idea se tenuti in luoghi asciutti e in condizioni di sicurezza con molta probabilità saranno leggibili anche fra vent'anni ma anche qui c'è un ma un grosso ma enorme a cui spesso non si pensa mi sto riferendo all'inconveniente del protocollo di connessione utilizzato è capitato recentemente di dover recuperare dei brani inediti di un artista famosissimo di cui non posso fare il nome da degli hard disk scasi anzi ultra scasi formattati con os 9 di apple e in formato ride con una scheda particolare scasi installata dentro un g4 del 2005 se non si possiede questa esatta configurazione di macchina sarà quasi impossibile leggere i dischi senza contare che ci serviranno anche i software audio di quello stesso periodo che sono stati utilizzati per quelle registrazioni in grado di poter leggere quelle song in pochi sanno che per il mio lavoro possiedo tutti i mac prodotti dagli anni 90 fino ad oggi e pronti per l'uso con i vari sistemi operativi già installati in grado di poter essere compatibili con gli hard disk scasi ideata firewire thunderbolt ultra scasi eccetera eccetera e non abbiamo parlato ancora dei floppy disk che venivano utilizzati sin dagli anni 80 con appunto lo spectrum il commodore 64 passando per la miga datari st i primi pc bm compatibili e i macintosh con le loro rispettive formattazioni e rispettivi drive in alcuni casi estremi formati di floppy anche più particolari come quelli da tre pollici ad esempio non quelli da tre e mezzo i dischetti zip per chi li ricorda della iomega o i dat scasi con i dati backup appunto delle aziende contabili in questi ultimi trent'anni sono stati creati tanti di quei sistemi di archiviazione informatica che neanche io li possiedo tutti ma vi assicuro li ho utilizzati tutti in questo frangente entra in gioco tantissimo l'esperienza e qui mi dispiace dirlo le ai non possono arrivare davvero neanche fra cent'anni stesso identico discorso per i diversi lettori di nastro usati nelle diverse epoche delle istituzioni italiane ad esempio c'è poi un mio collega mio carissimo amico giuliano radiciotti che invece possiede ed è super esperto di tutti i registratori a bobina della storia in grado di recuperare materiale appunto storico ed archivio antecedente all'era informatica guardando a questo panorama capiamo subito quanto sia complesso complicato fare un backup che poi sarà possibile leggere in futuro perché gli standard cambiano ogni anno e anche troppo velocemente mentre nello stesso momento gettiamo via tutte le macchine che serviranno per poterli utilizzare quando parlo di queste cose mi viene sempre in mente quel genio che ha inventato la storia di john titor per chi non la conosce cercatela perché è pura fantascienza ma è così attuale da renderla credibile e che ha incollato tutta la generazione x davanti agli schermi dei pc per un decennio nei primi anni 2000 titor affermava di essere un soldato americano dell'anno 2036 con sede a tampa in florida disse che è stato assegnato ad un progetto governativo di viaggio nel tempo e che come parte del progetto fu inviato nel 1975 per recuperare un computer ibm 5100 che era necessario per eseguire il debug di vari programmi per computer legacy che esistevano nel 2036 con un possibile riferimento a un problema unix dell'anno 2038 l'ibm 5100 esegue i linguaggi di programmazione apl e basic che ormai nessun computer del futuro era in grado di eseguire un po come se non avessimo gli emulatori trovarci di fronte a un programma di basic per il commodore 64 senza avere il commodore 64. Titor disse di essere stato selezionato per questa missione perché suo nonno paterno era direttamente coinvolto nell'assemblaggio e nella programmazione originali del 5100 nei suoi post infatti fornì la prova di ciò che stava descrivendo caratteristiche non pubblicizzate ad esempio del 5100 il che portò poi alcune persone a credere che fosse anche un informatico esperto e quindi colui che doveva celarsi dietro questi post ma è veramente fantascienza questo accade purtroppo normalmente in tantissime aziende e anche in enti governativi che poi devono ricorrere ai fonici forensi e tecnici forensi per recuperare il loro stesso materiale negli ultimi anni ho fatto e ho lavorato anche per la procura generale di roma al recupero di materiale posto sotto segreto un fatto che mi ha fatto venire in mente altre domande sulla conservazione d'impiego del materiale in oggetto lo vedremo tra un po' se mi seguite l'altro aspetto che dovremo prendere in considerazione è la durata effettiva del supporto quanto quanto possano resistere i supporti nel tempo che siano hard disk o cd o dvd quando uscirono ad esempio i cd si diceva che sarebbero stati indistruttibili la musica registrata sul cd sarebbe stata eterna indovinato un po' dopo 30 anni alcuni sono illegibili e non parlo solo di quelli registrabili che si basano su uno strato organico scrivibile come ad esempio quelli masterizzabili gli hard disk sono dischi magnetici e sono suscettibili a due tipi di deterioramento derivati dalla smagnetizzazione ad esempio o dal malfunzionamento delle parti meccaniche o elettroniche appunto che si trovano sul disco li possiamo appunto vedere da parte elettronica e questa sotto la parte meccanica e interna che chiaramente può essere suscettibile a diversi fattori anche ambientali alcune ditte hanno fatto la loro fortuna proprio nel recupero dei dati il costo approssimativo in alcuni casi raggiunge un euro a megabyte eppure con l'avanzamento tecnologico la necessità di archiviazione è diventata sempre più importante sempre più vasta vista l'enormità dei dati che devono essere conservati veniamo adesso ai metodi che ho trovato funzionali per questo scopo metodo 1 o primo metodo copiare spesso tutti i dati dei vecchi supporti su nuovi supporti sembra ovvio ma spesso ci si dimentica per esempio intendo ogni due o tre anni con questo sistema possiamo sentirci abbastanza tranquilli e dal riparo dall'evoluzione e quindi anche dall'obsolescenza tecnologica negli anni 90 l'archiviazione era prevalentemente fatta su cd poi si iniziò a salvare i dati su hard disk ata o scasi ad esempio sempre più capienti e più economici poi ogni cinque anni nuovo backup su hard disk con tecnologia seguente come ad esempio sata poi sata 2 eccetera eccetera fino ai giorni nostri dove gli hard disk raggiungono facilmente i 20 terabyte sempre negli anni 2000 si è iniziato ad utilizzare il masterizzatore dvd un sistema economico per l'epoca anche per archiviare film o serie animate ma più è grande l'hard disk più dati si perderanno quando si danneggerà nel video che feci sugli hard disk da studio di registrazione che trovate sempre appunto in descrizione se volete guardarlo ho parlato degli hard disk da due e mezzo quelli più piccolini questi qui che rispetto a quelli da tre e mezzo che sono più grandi come vediamo dimensioni sono diverse quelli più piccoli furono appunto inizialmente pensati per i computer portatili resistono come vi dicevo maggiormente agli urti quindi anche alle sollecitazioni perché progettati per essere messi nei computer portatili rispetto appunto al formato da tre e mezzo che è più economico tra l'altro ho ovviamente delle valigette piene di hard disk dopo ne parleremo meglio un'avvertenza è importante non buttare i vecchi supporti a disk perché potranno sempre tornarci utili per diverse situazioni ad esempio dovessimo collegarli alle vecchie macchine o potranno comunque essere utilizzati come parti di ricambio di ulteriori hard disk danneggiati da cui dobbiamo recuperare altro materiale insomma è importante non buttare via niente mai eh ma dove poi metto tutta questa roba problema vostro se non lo avete ancora fatto e mi avete seguito fin qui iscrivetevi al canale lasciate un commento questo aiuta alla divulgazione dei contenuti gratuiti e a voi non costa niente ritornando al backup su hard disk sono abbastanza sicuri come dicevo ma consiglio comunque di creare un sistema ride mirror in modo da poter avere un backup identico su due dischi separati si perde sì metà spazio ovviamente ma si sta più sicuri sconsigliato invece lavorare direttamente sugli hard disk messi in modalità ride metodologia 2 o secondo metodo chi ha archiviato su cd o dvd si è sicuramente trovato di fronte alla perdita di quasi certa dei dati solo dopo dieci anni di deposito ad esempio si è poi arrivati ai supporti ottici più capienti come i blu ray che oggi raggiungono i 128 gigabyte come vedremo fino ad arrivare al supporto di cui parleremo in questo video che è il bdxl o m disk lifetime archival garantito mille anni che voi facciate musicisti o meno avrete bisogno di un backup forse pensare di acquistare un sistema più possibile stabile per i vostri ricordi più importanti è probabilmente la scelta migliore da prendere oggi nel mio caso devo conservare decenni di lavori importanti su album famosi che sarebbe un peccato perdere nonostante le relative etichette abbiano già il loro archivio parlo delle etichette discografiche ma è anche capitato che alcune di esse siano state costrette a chiamarmi per recuperare il loro stesso materiale inavvertitamente perso non sto parlando dei backup dei film preferiti o della montagna di mp3 che non ascolteremo mai di cose sto parlando invece di cose veramente importanti il lavoro standard del mio studio viene catalogato settimanalmente su tre diversi hard disk di backup per essere sicuro di essere al riparo dalla sfiga perché come dice lupo alberto la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo purtroppo è capitato tanto tempo fa che un mio lavoro importante personale sia andato perso perché non feci un backup in tempo è la dimostrazione che la sfiga ci vede ed esiste veramente da quel giorno ne ho sempre fatti come dicevo tre un quarto backup sempre su un artist che viene regolarmente aggiornato e tenuto lontano dallo studio metodologia tre o terzo metodo i server online i server online sono la migliore scelta per tenere il backup costante di tutto il nostro materiale sì questo è vero se si è disposti un po a rischiare di perderlo o peggio essere derubati di dati sensibili dei nostri lavori io stesso lavoro costantemente sui server online per esempio i file di testo che sto utilizzando in questo momento o anche con i libri o gli articoli che scrivo direttamente sul cloud dropbox o in una cartella personale non condivisa dove scrivo appunto tutto e catalogo anche i documenti fiscali per potervi accedere in ogni momento dal cellulare o dall'ipad e o condividerli appunto con il mio commercialista o i miei colleghi di lavoro in questo caso c'è una cartella condivisa per ognuno di essi dove appunto ripongo i files che possono poi leggere direttamente loro è indubbiamente uno dei sistemi più pratici in assoluto che abbia mai avuto ma ci sono due rischi fondamentali è capitato che il server fosse down per manutenzione o peggio attacchi e non potevo appunto accedervi oltremodo proprio dropbox per questo tengo anche una copia dei dati dropbox residenti sulla macchina quindi non tutti sul cloud oltremodo proprio dropbox che è uno tra i più sicuri nel 2016 perse le credenziali di tantissimi utenti mettendo a rischio i dati di ognuno degli iscritti al servizio questo dimostra che qualsiasi server è craccabile e mettere i nostri dati online pensando che siano sicuri al cento per cento è pura follia non accadrà mai ve lo assicuro lo stesso discorso va applicato ai lavori che facciamo per terzi perché rischiare di perdere un cliente o peggio essere denunciati lasciando in giro brani o album inediti il materiale online essendo condivisibile sui vari dispositivi rischia di essere sputtanato proprio se qualcuno prende uno dei nostri dispositivi ad esso collegati non consideriamo il fatto che un'azienda poi possa chiudere all'improvviso come è anche capitato in passato lasciandoci senza un dato residente sul nostro computer per me rimane un eccellente ripeto sistema di clouding di backup durante le fasi di lavoro ma il backup lo continuo a fare sempre in locale può comunque essere una terza o quarta opzione di backup supplementare ma a rischio di hacking quando si tratta di dover archiviare poi 12 terabyte inizia a diventare un po' complicato mi vengono in mente i giocatori online non sono un fan dei software online o degli abbonamenti forse ne parleremo in un altro video perché comunque anche quello è un aspetto che secondo me va approfondito e un po' si aggancia a questo discorso metodologia 4 il formato di registrazione ottica sembrava morto in questo contesto ma stranamente è resuscitato in un nuovo standard riportando la sicurezza dei backup ad un altro livello in tutto questo non ho parlato degli hard disk ssd perché sono veramente tra i più pericolosi su cui pensare di tenere memorizzati i dati per anni ottimi per lavorare e pessimi a mio avviso per conservare ed inoltre se si danneggia un ssd difficilmente saremo in grado di recuperare i dati se non è quasi impossibile la soluzione migliore potrebbe proprio essere riuscire ad incidere i dati su una superficie non organica in grado di non deteriorarsi col tempo come dicevo prima molti anni fa appunto facendo un riferimento ai computer tanti software venivano registrati sul nastro analogico ma la capacità di memorizzazione dei nastri era veramente limitata pensiamo ad esempio di mettere una nostra canzone mp3 con quel sistema su un nastro occuperebbero ben 10 cassette da 90 minuti per una sola canzone consideriamo appunto che il sistema migliore in quel senso occupava cinque minuti di nastro per 48k quindi kilobyte di informazione digitale codificata poi magari farò un video dedicato a questo sistema perché a mio avviso la tecnologia che c'è dietro è veramente interessante e a mio avviso geniale ritornando agli m disk che vediamo qui sono in questo momento venduti ad un prezzo altissimo con la garanzia che saranno indistruttibili per i prossimi mille anni come se qualcuno poi effettivamente potesse si potrà mai lamentare di questo servizio chi campa mille anni per controllare la compagnia stessa che ha inventato il sistema è fallita ed è stata acquisita da verbatim quello che viene dichiarato è che si tratta di un sistema inorganico per poter funzionare è necessario utilizzare un m un marble ossia uno strato di registrazione ablativo di metallo non è l'unico sistema ma è uno dei sistemi che vengono utilizzati infatti i coloranti organici incluso l'azzo sono soggetti all'invecchiamento e al deterioramento come abbiamo visto sui dvd o sui blu-ray la degradazione della tintura porta alla mancanza di contrasto ottico che porta ovviamente poi alla perdita dei dati è opinione diffusa che gli strati di registrazione inorganici offrano una longevità superiore per esempio per i mab l'ho sentito sui 300 anni e mentre gli m disk appunto come riportato nella confezione rivendicano mille anni di garanzia nel complesso sembra quindi che gli strati inorganici comprese le leghe metalliche siano meglio indicati per rimanere fisicamente inerti nel tempo rispetto alla loro controparte organica cosa c'è poi di vero dietro tutto questo si tratta solo di marketing l'unica risposta è che effettivamente nessuno lo sa l'emme disk bdr è arrivato sul mercato nel 2014 dieci anni fa circa avremmo bisogno in questo caso di una vera macchina del tempo per teletrasportarci a 990 anni nel futuro per testare se quella longevità è effettivamente assicurata o meno incuriosito però ho acquistato questa costosissima confezione di 5 dischi da 100 gigabyte per avere un quinto backup almeno delle mie cose più importanti o per i clienti appunto che lo richiedono sicuramente questi supporti non sono influenzabili da eventuali disastri elettromagnetici garantendomi un tipo di backup più duraturo rispetto a quello standard degli hard disk meccanici esistono altre marche che propongono blu ray da 50 gigabyte ad esempio ma non garantiti né distribuiti come m disk fra mille anni sapremo se effettivamente questi supporti sono stati in grado di mantenere la loro promessa per poterli masterizzare invece è fondamentale avere a disposizione anche un masterizzatore per blu ray disk ed un software adatto allo scopo su cui su mac ad esempio utilizzo da tantissimi anni toast titanium in questo caso nel toast 20 pro che appunto si preoccupa di fare il burn dei dvd e anche dei blu ray quel caso in questo caso andando sotto burn abbiamo tutti i formati compreso il bd mv l'importante come dicevo però è il masterizzatore dedicato al burning del formato m disk attenzione anche alle disciture fasulle purtroppo che appaiono spesso su amazon la cosa migliore il mio consiglio è quello di scaricare il manuale del masterizzatore e leggere se effettivamente sia in grado o meno di masterizzare il formato m disk bd xl il costo attuale del masterizzatore in questo caso si aggira sui 145 euro mentre appunto servono ben 99 euro per cinque dischi da 100 gigabyte sicuramente i prezzi si abbasseranno nel prossimo futuro ho provato quindi il sistema e sono sinceramente rimasto un po deluso sicuramente il disco una volta scritto è in grado di salvaguardare i dati ma è stato complicato proprio masterizzarlo e ne ho praticamente buttati via due solo per fare delle prove 30 euro nel cesso in questo caso solo perché la prima volta il cavo usb c in dotazione non era in grado di essere performante come un cavo professionale la seconda volta perché il masterizzatore ha deciso che non andava bene il disco osx riesce a masterizzarli senza necessità né di driver per il masterizzatore né di software come appunto toast quindi già il sistema operativo può utilizzare masterizzatore dischi ma non è possibile scegliere diverse velocità di masterizzazione almeno con il masterizzatore che ho trovato io dovevo rimanere fisso a 2x non potevo scendere a 1x li ho masterizzati quindi a 2x impiegando circa un'ora per 100 gigabyte quindi consigliabile di acquistare il migliore tra i masterizzatori che troviamo in commercio in modo da poter eliminare al punto e quindi limitare i danni e le perdite dei supporti che come dicevo appunto sono abbastanza costosi se mi avete seguito fino qui io vi ringrazio spero vi siate iscritti al canale nel frattempo e se pensate di avere dei sistemi di backup alternativi più validi vi prego di suggerirmeli nei commenti inutile dire che acquistare l'hard disk migliore sul mercato è la scelta sì più dolorosa per il portafoglio ma quando si pianterà il vostro pc penserete di aver perso i vostri dati mi ringrazierete e vi troverete ad aver affrontato questa spesa con un po' più di leggerezza se vi è piaciuto questo video scrivetelo sotto nei commenti ne farò uno nuovo magari un nuovo aggiornamento sui nuovi hard disk che si trovano in questo momento sul mercato sempre per lo scopo di magari lavorazione o backup dei nostri lavori per il momento è tutto ciao a presto spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com affronteremo i vostri mix insieme li finalizzeremo nelle fasi di mastering per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese continuate a seguirmi su facebook youtube e music off non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale patreon che trovate in descrizione se il video vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella questo mi aiuta a far crescere il canale per il momento è tutto ciao a presto